L'indagine congiunturale semestrale di Confindustria Romagna, che raccoglie le aziende di Rimini e Ravenna, ha confermato una dinamicità del territorio dell'area vasta, che evidenzia un più 9,8% nel fatturato, più 10% nella produzione e un più 5,1% nell'occupazione. Nelle previsioni del primo semestre 2018, stazionarietà sia per produzione che occupazione. Per Ravenna, invece, buona performance del mercato interno rispetto a quello estero per il fatturato, un più 10,4% contro un più 5%. Riscossa delle piccole imprese, più 14,4% di fatturato, a fronte delle grandi imprese, più 9,7%. Settore trainante e il metalmeccanico, ottimistiche le previsioni per il 2018, con una tendenza alla stazionarietà per produzione, ordini e occupazione. Commentiamo una situazione finalmente positiva, nel senso che i dati sia di chiusura dell'ultimo semestre, che le previsioni per il semestre in corso sono dati assolutamente incoraggianti, sul mercato interno anche, che cresce in particolare sul territorio di Ravenna, maggiormente rispetto all'estero. E poi c'è anche un bel segnale dalle aziende medio-piccole e dalle aziende piccole, entro i 50 dipendenti, per cui possiamo dire e affermare che la ripresa è veramente in corso e ci fa essere fiduciosi appunto anche per il semestre a venire, da qui a giugno. Naturalmente vale il fatto che non si può immaginare di abbassare la guardia.